Il primo l'ho visto martedì scorso, il secondo nella notte tra il venerdì e il sabato e il terzo ieri che siamo arrivati e lunedì avevo fatto montare una grata di ferro alla finestra e è stata smurata completamente per poter rientrare senza trovare niente ovviamente perché comunque alla scelta non ci si lascia più nulla però il danno c'è comunque. Tre colpi nel giro di una decina di giorni, nelle mire dei malviventi il Pineta ha un chiosco bar di San Giovanni Valdarno. Il ladro in tutto avrebbe portato via circa 650 euro, importanti invece danni che si è lasciato alle spalle. Penso che non sia più sostenibile una cosa così, insomma per noi è una bella volta, non è che si lavora per lui, è faticoso anche mantenere lo spirito per andare avanti. Prosegue così l'ondata di furti che ha toccato San Giovanni Valdarno causando perdite e danni agli esercizi pubblici creando anche una certa preoccupazione. Continuiamo a subire furti tutti i giorni, non è sostenibile questa cosa, che facciano qualcosa, che intervengano, che vadano a prenderlo, cioè non può essere il paese, la comunità a dover applicare delle precauzioni. Questa notte sono rimasti dei miei amici clienti a controllare il bar fino alle 6 di notte. Mi sembra assurdo questo, cioè fuori di testa è una situazione che non può andare avanti così, cioè non si può rimanere noi a rischiare la pelle diciamo per tutelarci.